E' in programma domenica 12 maggio ad Agropoli il primo raduno nazionale della Vespa Club Agropoli. La manifestazione prevede la partecipazione di oltre 400 partecipanti provenienti da diverse regioni della penisola. In particolare hanno aderito persone provenienti dalla Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Toscana e Piemonte. Ci sarà anche una rappresentanza proveniente dal Belgio. A ritrovarsi e quindi a spilare per le strade di Agropoli saranno le Vespe con cilindrata da 50 a 200. La giornata sarà così organizzata. Dalle ore 7 alle 11 ritrovo ed iscrizione dei partecipanti presso il porto turistico di Agropoli. Dalle ore 11 alle 12 giro turistico in Vespa alla scoperta delle bellezze naturalistiche della città e paesi limitrofi con termine presso il castello Angioino Aragonese. Dalle ore 12 alle 14 visita del castello con aperitivo e premiazione dei partecipanti. Dalle ore 14 partenza dal castello con destinazione porto per il pranzo fino alle ore 17. Sarà un'occasione, afferma il sindaco Coppola, per far conoscere ai tanti appassionati dell'intramontabile Vespa la città di Agropoli con le sue bellezze e peculiarità. Una giornata da trascorrere nella spensieratezza con chi condivide le medesime passioni.